La BIM Distribuzione è orgogliosa di presentare Tulpan, la ragazza che non c'era. Questo è il mio sogno. Il mio sogno è di costruire un piccolo angolo di paradiso. Qui sotto il cielo stellato della steppa. Non hai visto il pesce cane? No, quello non l'ho mai visto, ma ho visto una cosa molto più spaventosa. Non c'è confronto, la piovra. Quando prende una persona la branca e la tira, la tira verso di lei. Allora sei fatto. Ti mangia, finito. Va bene, va bene. Voi avete una figlia, noi abbiamo questo ragazzo. Fanno due metà. Gli vedrai bene loro due insieme, fare un tutt'uno. Da parte nostra ci sono dieci pecore e un pegno del promesso sposo. Eccolo qua, è questo. Il film rivelazione del Festival di Cagno. Vincitore del premio Sertan Regal. Te l'ha portata una la musica del matrimonio! Where we can go! Non le sei piaciuto! Ha detto alla madre che hai, le orecchie a spentola. Un film insolito, originale, che vi stupirà. Non avrò niente. Senza moglie non me lo dà un grece. Un'altra ragazza non c'è da queste parti, te la vuoi mettere nella zucca? Ci sono persone che credono nell'amore e cercano se stesse. Lui cercava Tulpan, la ragazza che non c'era. Ecco, ce l'ha a sventola anche il principe. È un principe africano. Americano? Ho capito, sì. Riesci a vedere? Dal 24 aprile al cinema.